Buongiorno ragazzi, bentornati da Carmi Special, oggi siamo con un video molto particolare vi chiedo tantissimi like, soprattutto se avreste voluto una mia partecipazione al fantacalcio dei youtubers organizzato da Seekwolf per l'edizione appunto 2019-2020 partecipazione che doveva esserci, nel senso che sono stato invitato ma per impegni personali che avevo già preso al momento dell'invito non potevo, quindi ho dovuto diciamo declinare l'invito e quindi ho roficato tantissimo ragazzi perché oltre ad essere una ottima vetrina per il canale, soprattutto visto che tratto il fantacalcio avrei magari potuto fare anche una buona asta, sarebbe stata anche l'opportunità buona per conoscere i vari youtubers con cui magari ho collaborato in passato, comunque con cui ho fatto il fantacalcio insomma c'era anche Carlo per le gatti, quindi una bellissima occasione che purtroppo non ho potuto sfruttare però spero ci sarà l'occasione in futuro ma ho parlato con Seek perché volevo comunque essere partecipe e fare un'analisi un po' non solo dell'asta ma anche delle rose questo perché? Perché come vi ho sempre detto le aste possono essere molto utili non solo per capire gli errori quando magari ne commettiamo noi, quando ne commetto io, ve li racconto appunto qui nel canale ma osservare altre aste, io mi sono andato a vedere un po' tutta l'asta che hanno fatto ovviamente velocizzata perché non avevo 5 o più ore da investire però comunque velocizzata l'ho guardata un po' tutta per capire un po' gli errori, è sempre una sorta di allenamento osservare anche le aste per questo anche mi capita quando vi faccio delle aste qui su Youtube di dirvi appunto di osservarle e a tal proposito stasera e domani sera sarò in live con un'asta fantacalcio sul canale del Marchese Bianconero che faremo un'asta classica appunto tra amici, alcuni youtuber piccoli e quindi vi potrete rivedere all'opera in un'asta tra l'altro a 10 quindi molto intrigante e sarà penso l'ultima asta alla quale parteciperò quest'anno comunque ci vediamo in caso stasera dopo le 20.45 intorno a quell'orario sul canale del Marchese Bianconero ok? Mi raccomando se venite ovviamente con educazione non venite lì per insultare per gli errori diciamo fatti all'asta ma semplicemente per osservare e diciamo capire cosa sta andando in maniera corretta e cosa no ovviamente poi siete liberi di fare ciò che volete detto questo andiamo a vedere, ringrazio anche Luca Toselli che mi ha passato il file delle rose nei quali comunque ci sono errori giustamente ortografici perché durante l'asta uno non si può mettere lì a scrivere tutti i nomi bene quindi passiamo oltre magari agli errori di battitura ma lo ringrazio appunto perché mi ha passato il file delle rose che possiamo adesso andare ad analizzare un'asta molto particolare il regolamento qual era ragazzi? c'era il modificatore di difesa non l'imbattibilità ma il modificatore di difesa sì e questo cambia molto le valutazioni delle rose perché costruendo una difesa forte soprattutto schierabile con 4 slot puoi andare a sfruttare molto bene la regola del modificatore anche se come vi ho sempre detto in un fantacalcio A8 perché loro erano un fantacalcio A8 potevano appunto costruire un centrocampo talmente forte con 4 slot potenti da poter sfruttare spesso il centrocampo A4 quindi magari con un 3-4-3 o comunque anche un 4-4-2 dipende dalla costruzione poi dell'attacco detto questo andiamo a vedere ah ovviamente erano in copia ma credo abbiate già visto un po' l'asta quindi non era facile mettersi d'accordo ma la particolarità era che la modalità d'asta è stata completamente stravolta dai banditori nel senso che c'era la busta per magari il giocatore con la quotazione più alta per ogni reparto se non sbaglio era questa la regola quindi a parte la busta poi le chiamate non erano fatte dai fantallenatori a parte in qualche caso ma dai banditori cioè da Pelle Gatti e mi pare Federico Marconi credo si chiama il ragazzo quindi questo cosa va succede? ha cambiato tutto ragazzi è diventata un'asta random è diventata veramente un'asta random ragazzi perché non decideva più il fantallenatore chi voler chiamare o chi voler far prendere agli avversari ma il banditore andava ad estrarre praticamente un nome in base alle sue sensazioni e soprattutto non essendo dei fantallenatori né Marconi né Pelle Gatti questo ha complicato un po' le cose e i fantallenatori secondo me si sono fatti un po' trascinare da questa cosa non hanno percepito subito l'aspetto random e che quindi bisognava pazientare perché alcuni buoni nomi sarebbero stati poi chiamati verso la fine allora andiamo ad analizzare le cose io ho dato già delle valutazioni un po' provvisori cioè nel senso da tempo velocemente poi anzi una cosa che possiamo fare è qua sotto nei commenti fate voi una classifica secondo voi delle rose anche più forti e vedremo se poi sarà quella finale perché come sappiamo il fantacalcio è anche fortuna poi possono cambiare molte cose quindi non sempre è la squadra più forte poi si porta a casa la vittoria soprattutto nei fantacalcio a calendario quindi andiamo via con partiamo con l'analisi partiamo dalla squadra di Toselli e Daniele Brogna in coppia e in porta hanno preso Cersni, Seppe e Silvestri il prezzo di Cersni è buono ma non vedo Buffon questo è stato un problema perché gli hanno rialzato ma Stringelo gli ha fatto un bel 5 per Buffon per appunto dargli un po' fastidio io sinceramente avrei fatto anche il 6 nel senso che una volta che vado a investire dei crediti su Cersni quei crediti hanno ancora più valore se vado a piazzarmi Buffon in panchina per essere sicuro che io posso schierare volendo 38 giornate il portiere della Juventus in questo caso sono 36 perché il campionato è già iniziato comunque nel complesso hanno comunque chiuso il reparto con due portieri titolari tra l'altro Seppe è molto buono però io quel 6 per Buffon l'avrei fatto me lo sarei portato a casa mantenendomi sempre all'interno dei 50 fantamilioni poi la difesa con Gulu investimento di 7 fantamilioni nella speranza che possa fare pace con la società poi Ternandez a 11 ci sta Sandro a vendi e il prezzo secondo me è giusto neanche troppo costoso 8 ragazzi devrai secondo me prezzo questo clamoroso clamoroso cioè meno del 50% del suo valore poi Chirichez a 1 evitabile da fantacalcio a 10 secondo me o neanche a volte Rodriguez a 1 in coppia con Teo Hernandez ci può stare Igor a 1 come scommessina non è malissimo sono uno dei migliori ma va bene e Romero a 1 titolare del Geno quindi nel complesso la difesa è costruita molto bene vediamo il centrocampo con il Papu Gomez a 61 prezzo giusto anche se altri top sono andati a molto meno se non sbaglio diciamo che questo è dovuto alla busta perché per il Papu Gomez c'era la busta poi De Paul 34 Bernardeschi 11 che si 6 buon prezzo Ringona 1 come titolare Scarsomesso tra gli ultimi slot Zelischi 11 ottimo prezzo Benassi a 1 ci sta e Traorè a 3 bella bella scompessa vediamo l'attacco con Di Bala 21 a fare comunque un buon investimento ma ci può stare poi Muri alla 38 Zeko 177 Lasagna 3 di Francesco 6 Simeone forse nell'attacco manca qualcosina un po' di Pepe come valutazione è andato alla porta 8 difesa 7,5 centrocampo 8 e attacco 7,5 perché non è proprio potentissimo è ben costruito ma manca un po' di potenza forse devono essere bravi nello schieramento della formazione voto complessivo 7,5 andiamo al Penguin in coppia se non sbaglio con oddio non ricordo in questo momento forse Alfred si credo con Alfred Donnarumma e Reina in coppia a 30 quindi al limite del costo avrei pagato un po' di meno ma ci stiamo e poi Dragoschi a 2 dimenticato un po' da tutti loro fanno rilancio a 2 e se lo portano a casa come cavolo è potuto succedere questa cosa perché c'è un Bernie qua a 1 perché c'è un Mirante a 5 Gabriella a 5 questi dovuti appunto alla questione del banditore perché se il banditore ti va a chiamare Mirante tu non vai a dire 1,2,3,4,5 vai a dire stop cioè no al massimo lo prendo dopo chi ha preso ma Paolo Lopez può decidere di prenderlo dopo ma non ha senso stesso discorso per Gabriel e altri portieri comunque poi continuiamo con Skriniar Koulibaly Izzo già qui ti scatta praticamente il 6,5 al modificatore quasi sempre e quindi difesa mostruosa già fin qui Chiellini a 1 ma magari avrei riempito questo slot in altro modo però vabbè bisogna aspettarlo poi Dikes a 4 Spinazzola a 1 ci sta Lianco a 1 e poi Goulam a 4 anche questo prezzo assurdo hanno speso investito i giusti crediti forse Izzo a 16 è molto buono Koulibaly siamo lì al limite Skriniar a vendi è ottimo però in teoria hanno speso un bel po' per la difesa avrei speso magari meno nel senso che magari gli stessi giocatori forti li potevi pagare meno in altri momenti però sono venuti lì hanno una difesa fortissima infatti gli ho dato tipo 9 alla difesa perché col modificatore praticamente gli scattano 2-3 punti ogni giornata minimo poi Ribery Linetti Linetti qui forse c'è stato l'errore di riempire questo slot in questo momento perché poi alla fine c'erano guardate qui Ansaldi Rogge Kurti c'ha 1 non ha senso però gran colpi Andandez a 9 Ruiz a 35 buon prezzo Douglas costa 57 forse qui l'investimento è abbastanza corposo elevato però nel complesso ragazzi centrocampo anche qui illegale attacco con CR7 210 prezzo un po' altino altino perché con gli stessi credit avrebbero potuto fare tanta tanta roba Correa 46 Gio Pedro credo sia Gio Pedro 5 appunto Santander 2 Diago Falche 1 1 Diago Falche addirittura e Sansone rigorista poi lasciato a 1 come tra gli ultimi slot anche qui attacco niente male ho dato semplicemente 7 perché l'investimento su CR7 mi sembra talmente alto per un tipo di fantacalcio a 8 che magari potevi investire su un doppio bomber portarti a casa un attacco un po' più completo più equilibrato invece hanno un CR7 che non è male diciamo ma l'avrei avuto come terzo slot e poi i vari Gio Pedro Sansone Iago Falche insomma attacco forte ma poteva essere costituito meglio comunque gli do un 8 ma volendo un 8 che può passare sinceramente anche a di più un 8 e mezzo quasi siamo lì siamo lì 8 8 e mezzo una delle rose secondo me più forti poi passiamo a Papyrus in coppia con il tattico Andanoici 62 Padelli 3 e Bernie 1 qui non avrei preso Bernie ma è il costo di Andanoici un po' elevato nel complesso infatti ho dato 8 sarebbe stato più alto senza questi due secondo me errori poi Atebor 17 ottimo prezzo Toloi 5 anche Alves a 6 niente male Colle a 1 ci può stare Samira 1 magari non l'avrei preso per non riempire in quel momento lo slot Larsen 1 è un'ottima scommessa Crescito a 16 tanta roba essendo rigorista e Ferrari a 1 si può riempire però magari altri nomi sono rimasti ad esempio ecco un nome che non vedo ragazzi è Castagno come hanno fatto a dimenticarsi Castagno mi devono dire soprattutto chi ha preso magari Gosens poteva lasciare bellissimo uno slot vuoto per Castagno è clamorosa questa distrazione poi passiamo al centrocampo Mkhitaryan Chiesa Ramsey Shone bellissimo questo centrocampo Pellegrini Kluivert Froehler a 1 e Veretua a 1 centrocampio a me mi piace molto infatti ho dato 7 e mezzo alla difesa perché diciamo è buona ma non da modificatore però nel complesso ci può stare come difesa 8 per il centrocampo mi piace come è costruito anche se ha un po' di scommesse di Mkhitaryan Ramsey insomma anche Kluivert e attacco con Immobile Petagna Pinamondi Gervinio quindi hanno due punte centrali abbastanza buone forti tra l'altro rigorista Petagna Immobile come primo slot assolutamente buone Gervinio come Jolly quindi l'attacco mi piace come è costruito ho dato 7 e mezzo perché non mi piace non mi piacciono gli ultimi due slot Babacar e Kalinic soprattutto Kalinic senza Zeko non mi pare abbia molta utilità però hanno voluto fare sta scommessa io non l'avrei fatto avrei preso i giocatori più utili tipo Sansone Jago Falke sono stati degli ottimi affari comunque voto complessivo 7 e mezzo poi passiamo alla rosa dei Brazo Crew in coppia con Fact mi pare con Sirigo Berisha Olsen tre ottimi portieri magari avrei investito meno fanta milioni ma questi sono stati i prezzi nel complesso della porta ho dato infatti 8 ci sta Delict 22 prezzo onesto diciamo prezzo giusto Smalling a 10 ci sta poi magari da fanta calcio a 10 o al massimo a un fanta milione non avrei investito gli altri fanta milioni questo perché è stato forse chiamato dal banditore penso e quindi in quel momento dovevi dire no non lo voglio al massimo lo prendo poi alla fine a 1 poi Bonucci a 12 buon prezzo Musacchi a 2 ci sta Acerbi a 10 regalo col modificatore è qualcosa di assurdo Mario Rui a 1 non l'avrei preso in fanta calcio a 8 però gioca al momento quindi ci può stare e Asamoah a 3 a farone anche questo c'è una difesa con il modificatore con Asamoah Acerbi Delict Bonucci è tanta tanta roba quindi niente niente male come difesa poi centrocampo con Matthew D Alan Kuzka Brozovic Calleone Hernani che dire Kudangan forse un po' troppo giocatori mediani e mezzale quindi giocatori un po' non proprio offensivi a parte Calleone quindi centrocampo che mi piace ho dato però semplicemente 6 perché sono un po' troppi mediani giocatori poco offensivi certo che comunque i bonus li porteranno i vari che diranno non solo Brozovic anche poi attacco con Lukaku pagato 170 prezzo diciamo giusto Lautaro 102 ecco questa coppia non l'avrei fatta avrei preso magari qualche altro tipo a 105 c'era Belotti mi pare ecco avrei investito oppure Quagliarella Quagliarella regalato di nuovo a Gabbomen cioè il capocannoniere regalato ecco questi fondamentali di Lautaro li avrei investiti in un bomber magari e soprattutto per non fare la coppia dell'Inter certo ogni gol dell'Inter praticamente probabilmente sarà loro però magari variare un po' sarebbe stata una scelta migliore comunque Boga 14 Boateng 5 Donnarumma 5 Llorente 5 si Boateng 5 è un affare assolutamente Donnarumma 5 ci può stare attacco buono ma come detto avrei cambiato la coppia quindi ho dato 7 l'ho calato per questo quindi voto complessivo alla fine 7 la difesa buonissima porta ci sta però centrocampo attacco non mi fanno impazzire passiamo invece a Sikwolf calciopazzo in coppia con Lopez 21 mi sembra un po' esagerato come costo soprattutto se poi vai a investire ad altri 11 per Gollini che 11 è un buon prezzo ma non se ne è già investiti 21 quindi vai complessivamente a pagare Musso anche 5 cioè se ti avvicini alla soia 40 tipo ti venisci a prendere un portiere top a quel punto Ramani a 2 Ghiglione a 6 mi piace Descio non l'avrei preso Florenzi 18 un buon prezzo Gosens 6 tanta roba Lirola 6 ci è stato Miasu bella scommessa magari prenderlo o meno però è stato chiamato un po' presto secondo me e Dalbert 2 va bene ci siamo passiamo oltre difesa alla quale ho dato 7 sì perché per il modificatore non è che sia granché una difesa normalissima diciamo da fantacalcio senza modificatore la porta non mi è piaciuta come è stata costruita per questo investimento di fantamilioni eccessivo più che altro passiamo al centrocampo che qui invece è illegale perché abbiamo Sensi a 23 Savic a 40 altro buon prezzo un Der a 33 tanta roba lo so che è acciaccato ma è comunque uno dei top di reparto comunque un giocatore pericolosissimo Buonaventura 9 ci sta 24 per Nengolan buon prezzo D'Alessandro come scommessina 3 Der 1 a 4 tanta roba e Kluseschi come scommessa 11 forse l'avrei pagato meno ma c'era Papyrus probabilmente che lo voleva poi attacco con Dovan Zapata Caputo Lozano Berardi Quame e Leao attacco fortissimo ho dato 8 e mezzo sia al centrocampo che all'attacco perché sono reparti illegali voto complessivo 8 in teoria si può dare anche di più ma non mi piace essendoci la modificatore di difesa non mi piace tantissimo come è costruita la difesa anche se Ghiglione Tomiaso sono giocatori che col modificatore possono servire insieme a Florenz e Gosens le soddisfazioni le danno la porta subirà diversi gol comunque voto complessivo 8 dato al momento può essere anche maggiore poi il Gavomen con Skorupski Audero consigli 3 portieri nessuno nessun semi top se vogliamo e prezzi comunque elevati cioè a quel costo ci prendevi almeno un semi top più qualcos'altro poi Gagliola 5 poteva essere preso a 1 o anche non preso Fazio a 7 ci può stare ma forse in coppia magari con Smalling Mancini ecco qui Mancini a punto 12 Manolas 19 ci sta Pellegrini a 7 del Cagliari ci può stare Bonifazza a 3 come scommessina Danilo della Juve presumo a 18 e poi Darmian a 6 forse avrei investito meno Fanta Milioni in alcuni slot tipo Gagliolo Darmian e così via le avrei presi magari a 1 risparmiando questi Fanta Milioni poi è comunque difesa non fortissima soprattutto col modificatore non è granché deve essere bravo nello schieramento con appunto Manolas più altri 3 però non lo so passiamo al centrocampo con Rabiot a 3 ci sta buon prezzo Suso a 35 ottimo anche questo poi Elmas a 1 forse in Vandagalcio a 8 non l'avrei preso Barella a 12 ci sta ci sta come prezzo forse anche meno però vabbè a lungo andare potrebbe essere buon prezzo Baselli a 4 ci sta Lazare a 14 ottimo colpo Saponara a 1 Mancosa a 1 ci sta non è un centrocampo fortissimo non mi piace la costruzione più che altro del centrocampo però ha voluto magari forse risparmiare un po' attacco poi con Milica a 70 e Mertens a 70 in coppia sono buoni vediamo poi Sanchez a 23 buon colpo buona scommessa Quaglia a 50 non ha assolutamente senso il capocannoniere che vada via al 10% del budget che è clamorosa come cosa ok che renderà meno dell'anno scorso ma è comunque Quagliarella poi Rebic a 16 e Ilicic a 5 è dimenticato forse da un po' tutti clamoroso anche questo prezzo attacco mostruoso dato 8,5 perché l'attacco è veramente veramente forte devono essere poi bravi nello schieramento della formazione il problema ragazzi è dietro la difesa porta non ci siamo perderà un po' di bonus utili là dietro però se schierano bene l'attacco e rendono come dovrebbero può far bene complessivamente però ho dovuto dare un 6,5 vediamo Mastrangelo in coppia con Gladiatore giallorosso Stracoscia a 20 Buffon a 5 e Radu a 5 ci può stare forse avrei pagato un po' meno magari il terzo solito l'avrei preso a 1 però nel complesso comunque buona porta infatti ho dato 8 ci sta hanno pure tolto Buffon a chi aveva Schersny Romagnoli Godin Palomino Di Lorenzo già questi vanno benissimo poi Barreca a 8 Milenkovic a 4 D'Ambrosio a 3 Calabria a 3 ecco qui magari nella panchina sarei andato un po' a risparmiare però nel complesso è una buona difesa ho dato 7,5 nulla di eccezionale punti di modificatore scatteranno grazie a Romagnoli Godin e Di Lorenzo però nel complesso non è la difesa più forte centrocampo con Luis Alberto Candreva Pjanic Pulgar Soriano a 7 mi fa impazzire l'errore qui del centrocampo secondo me è stato Mandragola a 6 quadrato a 4 e Cialanogla a 10 sono 20 fandamilioni per 3 che non ne fanno buono o 1 nel senso in un fantacalcio a 8 questi giocatori magari potevano non essere presi oppure presi a 1 o 2 fandamilioni quindi questi credit li avrei conservato per l'attacco poi Piondeck a 81 prezzo onestissimo cioè buonissimo quasi un regalo poi hanno preso paradossalmente a di più Higuain a 130 clamorosa questa cosa 81 Piondeck a 130 Higuain poi inglese come terzo a 48 Olsonini 4 fino a qui l'attacco è perfetto avrei dato 8 se non di più però poi mi vanno a prendere De Frelle e Pedro come ultimi esulot quindi non sono proprio copertissimi quindi l'ho calato a 7 e mezzo come votazione e a 7 e mezzo come voto complessivo finale poi passiamo al Kundispa e Peppone in coppia con Meretta a 26 qui già hanno fatto il colpaccio abbiamo preso Meretta a 26 bastava uno spin a 1 più un altro a 1 magari ad esempio non vedo Ioronen non è stato neanche preso invece no vanno a investire 10 franta milioni per Gabriele Mirante errore clamoroso però sono fatti secondo me trasportare un po' dalle aste più che altro oltre ad essere l'errore loro c'è stato anche chi ha alzato 4 3 e 2 per questi giocatori quindi non sono stati solo loro a sbagliare secondo me poi hanno messo un casino per la busta di Kolarov 48 è eccessivo poi guardate qui Biraghi 6 Olaina 8 Demiral 4 Chier 1 Vavro 4 Luxalt 1 e De Silvestri 5 praticamente gli unici sicuri del posto sono Kolarov e De Silvestri non va bene è una difesa 8 slot solo due titolari fissi gli altri che al momento si alterneranno poi magari a lungo andare saranno anche titolari però al momento è stata costruita male questa difesa infatti ho dovuto dare 5 6 in mezzo per la porta non per la forza della porta ma per diciamo come sono stati gestiti poi i crediti poi vediamo un po' a centrocampo Castrovilli Benna Serra 4 Pacheta 15 è un buon colpo Donale a 10 ci può stare Zagnola a 35 è un buon prezzo Berengher a 1 Verdi a 28 quindi la coppia e Brugman a 1 non so cosa ci faccia in un fantacalcio a 8 anche qui il centrocampo non mi fa impazzire infatti ho dato credo 6 non mi piace proprio la costruzione della rosa Belotti Belotti a 105 poi Insigne come secondo slot a 44 e qui fin qui ci siamo poi Balotelli a 42 metterzo Zazzà come quarto a 25 anche se in copia già Belotti e poi Nestorowski e Blauic l'attacco non mi fa impazzire cioè i titolari sono ben costruiti ma il resto così così voto all'attacco 7 voto complessivo 6 forse la rosa più debole quindi secondo me sulla carta le rose più forti sono quella di Sickwolf e il penguin poi se la giocano anche quella di Toselli e Brogna insieme a quella di Papirus e l'altra era di di Mastrangelo dopodiché ci sono quelle di Gabomen e di Brazzocchio e poi come fanalino di coda sulla carta sulla carta quella di Peppone e Kundispa questa era la mia analisi fatemi sapere scrivete qui sotto in descrizione ragazzi in descrizione nei commenti una classifica secondo me quale sarà la classifica finale quale sono le rose più forti e poi vedremo se alla fine effettivamente sarà quella diciamo è stato un fatacalcio molto particolare anche dovuto un po' a alcune situazioni di confusione ma ci sa non è mai facile organizzare un evento dal vivo in live con appunto anche presentatori quindi banditori tanti ospiti perché comunque tutte le squadre hanno anche in coppia quindi non era facile mettersi d'accordo la particolarità è stata appunto diciamo l'errore secondo me maggiore di molti fan d'allenatori è stato il non accorgersi della modalità d'asta cioè nel momento in cui i nomi venivano chiamati da Pelle Gatti o Marconi quella non era più un'asta chiamata ma era un'asta random ok come se ci fosse un software di estrazione nomi e in quel momento tu li devi pazientare aspettare che gli altri un po' investano dei fantamilioni e alla fine vedrai che fare buon colpi a low cost questo è stato secondo me l'errore e poi infatti ci sono stati prezzi assurdi devrai 8 non ha senso pagliare la 50 nemmeno un po' di pezzi assurdi ci sono sempre nelle varie asse quindi non è solo una questione di inesperienza perché comunque l'imprevedibilità dell'asta c'è sempre però 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 molti infatti mi dicevano carmi guarda che tu avresti fatto una rosa fortissima avresti vinto facile ragazzi vincere è un discorso cioè fare una rosa forte ok magari l'avrei fatta effettivamente forte magari utilizzando le varie strategie preparate per le varie modalità però da qui poi a vincere ce ne passa ragazzi sappiamo come va il fantacalcio anche l'anno scorso avevo uno squadrone con i cardi simeone milingo invece sappiamo come hanno reso questi tre come è andato il fantacalcio anche se poi alla fine sono arrivato comunque a podio comunque detto questo ragazzi io vi auguro una buona giornata un buon inizio settimana soprattutto per chi avrà la scuola quindi probabilmente nei prossimi giorni l'orario di uscita dei video sarà intorno alle 14 ok quindi per il periodo invernale l'orario di uscita dei video saranno intorno alle 14 14 e 30 mi raccomando quindi attivate la campanella per non perdere nulla e passate dai link in descrizione i miei social anche il canale dove vi mando sempre la notifica di tutti i video e live ci vediamo stasera sul canale del Marchese Bianconero appunto per un'asta live stasera e domani sarà divisa in due parti detto questo buona giornata a tutti e alla prossima ciao ragazzi